Un veloce ripasso sul realismo pittorico, l'idea dietro questi video è sempre la stessa, se per ogni slide riuscite a parlare dai 20 ai 40 secondi siete preparati. Metà dell'Ottocento, effetti negativi della rivoluzione industriale, peggioramento delle condizioni di vita del proletariato urbano. Abbandonare le tematiche della pittura romantica, maggiore adesione alla realtà del proprio tempo. Gustave Courbet, rappresenta persone povere e semplici, mostra le sofferenze delle classi inferiori causate dalla borghesia. Scuola di Barbizon, 1835-1870, paesaggi fin nei minimi dettagli. Camille Corot, uno dei più sensibili paesaggisti di tutti i tempi, esponente della scuola di Barbizon. In Italia, macchiaioli, 1855-1867, descrizione obiettiva della realtà della vita quotidiana, e poi vengono chiamati macchiaioli proprio perché dipingono con macchie di colore nette, cioè senza velature o effetti di chiaroscuro. Il tema militaristico compare spesso nei macchiaioli, soprattutto nella pittura di Giovanni Fattori, uno dei suoi massimi esponenti. Bene, spero che questo video vi sia utile per ripassare. Vi ringrazio davvero tanto per la vostra attenzione. Alla prossima! Grazie!